Grazie Presidente, questa era la giornata dove l'annunciata grande riforma del lavoro doveva vedere la luce e un dibattito propositivo, perché comunque di questa riforma tanto si attendeva a questa riforma quanto ce n'era l'esigenza. Purtroppo questa non è una riforma, è venuto fuori poco dalla trasformazione dell'attività comunicativa del Presidente del Consiglio, perché voi oggi portate in aula con un voto di fiducia, evitando anche il dibattito, una sistemazione, chiamiamola così, di una norma che avevate voi stessi fatto qualche anno fa e che viene migliorata questa norma, ma di certo non possiamo parlare di una riforma. Non possiamo parlare di quella riforma che aveva presentato il Presidente del Consiglio, che a parole aveva parlato di una rivoluzione dal punto di vista dei diritti dei lavori e della legislazione sul lavoro, paventando anche un sostegno alla crescita occupazionale, che purtroppo sappiamo tutti non c'è più, non c'è, non ci sarà, tanto che i dati ci confermano un aumento della disoccupazione. Vedete, noi non voteremo ovviamente la fiducia a questo Governo e ne contestiamo principalmente il metodo con il quale il Presidente del Consiglio utilizza il proprio attivismo in campagna elettorale, il proprio ruolo per fare attività da campagna elettorale, perché lui stesso aveva presentato un piano di riforme con uno scadenziario preciso, scadenziario che non è stato rispettato, ma riforme che tra l'altro non hanno quei contenuti da avere riforme, in più dovevano essere riforme condivise da tutti o perlomeno dibattute da tutti, invece si è trasformato in un dibattito del o si fa così o mi dimetto. L'unica riforma vera che c'è stata è quella che riguarda le province, che non ha riguardato di per sé stesse le province, visto che sono rimaste, ma ha riguardato la democrazia, cioè il potere di eleggere, la cancellazione del potere di eleggere da parte dei cittadini il proprio Presidente della provincia. Ma chi non è d'accordo con queste proposte viene definito un gufo, un tutore della casta o addirittura un bugiardo, come è successo ai tecnici e ai funzionari del Senato. Non ci sono miglioramenti dal punto di vista economico, perché conoscendo i dati sappiamo che è in costante aumento il debito pubblico ed è continuato ad essere in costante aumento la spesa pubblica, nonostante il più volte paventato piano di spending review, del quale ancora oggi non sappiamo quale sia effettivamente il contenuto e cosa si voglia fare di quel piano e quanti risparmi porti effettivamente quel piano. Non sappiamo neanche poi, oltretutto, quante macchine effettivamente ha venduto il Presidente del Consiglio su ebay. Ma sono arrivati gli 80 euro per pochi, i mitici 80 euro per pochi, pare, siano arrivati come promessi dal Presidente del Consiglio. 80 euro che, se fatti da qualcun altro in piena campagna elettorale, voi, del Partito Democratico, avreste gridato lo scandalo denunciando una compravendita elettorale con gli elettori. E poi arriva la Tasi, nuova imposta sul patrimonio immobiliare, ritassate le abitazioni principali, per cui c'è un aumento dell'imposizione fiscale, ma non sappiamo ancora oggi né la scadenza, per cui verranno rinviati ancora una volta, nonostante, differentemente da quanto ci avevate promesso l'anno scorso, la scadenza dei bilanci comunali. Non sappiamo che fine farà la revisione del patto di stabilità dei bilanci dei comuni, ma soprattutto non sappiamo come verrà gestita quella incredibile confusione che avete creato rispetto alla finanza locale. E poi passiamo al tema della giustizia e della sicurezza, dove ci avete dato dentro in questi mesi, riuscendo a creare uno stato di impunità per alcuni reati, addirittura depenalizzando un reato di spaccio, in ultimo. E poi in questi giorni è successo quello che purtroppo noi avevamo previsto potesse succedere con l'operazione Mare Nostro. Ci sono state vittime nel Mediterraneo e noi vi avevamo detto che l'unico modo perché non ci fossero quelle vittime era quello dei respingimenti, era quello di utilizzare la marina militare per fare i respingimenti. E invece oggi noi ci troviamo in una situazione dove quell'operazione ci costa, ha rischi sanitari, ha purtroppo avuto vittime e arrivano continuamente, quotidianamente, clandestini che neanche più i vostri centri di accoglienza riescono a gestire, addirittura ci sono proteste da parte di alcuni centri della Caritas. E allora la domanda è, se l'operazione Mare Nostro ha tutte queste negatività, perché l'avete voluta? Per quale motivo e quale interesse c'è dietro un'operazione di questo tipo? E poi vorremmo risentire dal Ministro dell'Interno magari un'informativa da parte sua, considerando il fatto che lui oggi dibatte insieme al Presidente del Consiglio su posizioni estremamente diverse con l'Unione Europea, e l'Unione Europea gli chiede, chiede allo Stato italiano, ma realmente voi cosa volete rispetto a questa situazione? E ce lo chiediamo anche noi, perché nessuno lo sa. Cosa vuole il Governo dall'Unione Europea rispetto alla situazione dei migranti, come li chiamate voi, o dei clandestini, come li chiamiamo noi? Perché oggi non c'è assolutamente una certezza di quello che volete. Allora continuiamo a farvi questa domanda. Cosa c'è dietro realmente all'operazione Mare Nostrum, visto che costa 9 milioni di euro al mese? Voi consentite il continuo arrivo di questi disperati? Non danno modo loro di avere un posto di lavoro, perché il posto di lavoro non c'è neanche per noi? E tutta questa politica di indulto e nuova immigrazione, dati alla mano, ci dice che ha aumentato i reati, perlomeno quelli di microcriminalità. Questa è la vostra politica dell'annuncio. La politica dell'annuncio di Matteo Renzi, che annuncia la montagna e partorisce il topolino, che è il decreto che oggi discutiamo sulla questione lavoro. Il Presidente del Consiglio ha una dote incredibile. Riesce ad essere di destra e di sinistra a seconda dei momenti, anche di centro a volte. Riesce a dire cose da cattolico e cose da ateo, cercando l'emotività elettorale quasi ovunque. Riesce addirittura ad assistere, seduto e tranquillo, ad una gara di calcio autorizzata da un tizio chiamato Jenny Acarogna. Ci è stato elencato più volte il calendario delle riforme che avreste dovuto fare. A febbraio riforme costituzionali ed elettorali, a marzo la riforma del lavoro, ad aprile la riforma della pubblica amministrazione, a marzo la riforma del fisco. E ora stiamo aspettando i moduli precompilati per la dichiarazione dei redditi. La riforma del terzo settore, cosa annunciata tra oggi e ieri, accorpamento delle motorizzazioni, ACI, spending review, eccetera, eccetera, eccetera. La domanda è, quando finiranno gli annunci e finirà la fantasia dell'annuncio del Presidente del Consiglio, cosa facciamo? Torniamo a votare? Ci diciamo che i gufi, i burocrati, quelli che i bugiardi non hanno consentito le riforme? Ci diciamo questo e magari sarà il momento, quando ci diremo questo, della legge di stabilità, perché magari mancherà qualche copertura. Chiudo dicendo che stamane il Presidente del Consiglio, in un ritorno di una visita di un istituto scolastico, ha parlato con un bambino extracomunitario e gli ha promesso la cittadinanza dopo il primo ciclo di studi. Ecco noi, Presidente del Consiglio, anche se lei ancora oggi non è in aula, la invitiamo a parlare con un, le vogliamo presentare un bambino lombardo, molto sfortunato, perché i suoi due genitori, i lombardi anch'essi, sono privi di lavoro. Magari prometterà qualcosa anche a loro. Grazie.